Per tutti era l'angelo o la mamma di San Vittore. Suor Enrichetta Alfieri è stata una figura di primo piano della resistenza non violenta nella Milano occupata dai nazi fascisti. Suor Wanda Maria Clerici la racconta così. Suor Enrichetta Alfieri è una suora della carità di Santa Giovanna Antida Touré che ha vissuto quasi tutta la sua vita di servizio al carcere milanese di San Vittore, in piazza Filangeri. Lei giunge al carcere nel 1923 e vi rimane fino al giorno della sua morte nel 1951. Significa che è stata una ergastolana volontaria. Gli anni più significativi sono certamente quelli che la collegano alla resistenza, movimento che a Milano ha conosciuto figure esemplari, anche perché Milano è capitale della resistenza in Europa. Perché è importante parlare di lei? Perché il carcere di San Vittore, quando i tedeschi giungono a Milano nel settembre del 1943, dopo essere giunti all'hotel Regina, si insediano al carcere milanese. e lo trasformano nel primo campo di concentramento, perché lì trasferiscono tutta quella che è l'ideologia nazista e anche i metodi che vengono utilizzati per far parlare le persone attraverso le torture, le sevizie e anche l'uccisione. Suor Enrichetta arriva a dire che arriva la barbarie a San Vittore. In realtà quando i tedeschi arrivano a San Vittore lei non c'è, perché le suore con le detenute nell'agosto del 1943 vengono trasferite in parte al carcere di Brescia, in seguito ai bombardamenti su Milano, e in parte vengono portate a Brivio. Però i tedeschi si rendono subito conto che non riescono a gestire la situazione, soprattutto la sezione femminile, e quindi chiedono il ritorno delle suore per garantire un maggior ordine. I nostri superiori non sono molto d'accordo di poter inserire di nuovo le suore in una situazione di questo tipo, ma interviene il Cardinal Schuster per far sì che questa figura, le figure della comunità religiosa, possa aiutare e alleviare le sofferenze dei detenuti, in particolare delle donne. Nel febbraio del 1944 le suore della Carità, quindi tutta la comunità, rientra al carcere San Vittore, occupando le loro mansioni, soprattutto nella sezione femminile, ma anche nel reparto clinico, cioè nell'infermeria, che era sia maschile che femminile. Suora Eriquetta è la superiore. Suora Eriquetta non vuole abbassarsi al ruolo di guardiana tedescofila, lo dichiara subito, e quindi fa le sue scelte, perché potremmo dire che Suora Eriquetta è una giusta, Suora Eriquetta ama la libertà, e soprattutto vuole che sia rispettata la dignità delle persone, quindi la persona al centro, potremmo dire. Intesse subito una rete di relazioni con le persone strategiche all'interno del carcere, che sono i medici, la guardiana della sezione femminile, alcuni avvocati, i sacerdoti, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il patronato San Vincenzo, la carità del cardinale, Monsignor Bicchierai, che è l'intermediario del cardinale tra il cardinale e i gerarchi tedeschi. Suo compito è quello di portare all'esterno del carcere, ai parenti, alle safette partigiane, dei messaggi, delle missive importanti, informazioni, e ad un tempo portare all'interno del carcere missive, informazioni e anche messaggi dei familiari. Significa che Suora Eriquetta in questi mesi diventa una vera e propria staffetta partigiana. L'abito di allora, il costume religioso che indossava Suora Eriquetta, favoriva la possibilità di portare dentro e fuori messaggi. Sappiamo che sospettavano i tedeschi di questa sua funzione, ma non hanno mai avuto il coraggio di perquisirla o di arrivare al punto di accusarla. Il sospetto però era molto presente. All'interno del carcere il caporale Franz era considerato il bovaro o il porcaro ed era comunque una persona di una violenza estrema. Era sempre in compagnia del suo caneluno, lupo, che spesso svolgeva il ruolo di un aguzzino animale che veniva scagliato contro le persone, contro i detenuti, in particolare anche contro gli ebrei. Suora Eriquetta però non ha paura di questo caporale e quindi tiene testa a lui. E questo è ancora un motivo per cui il caporale Franz la odia profondamente e la segue in modo molto ravvicinato. Suora Eriquetta un giorno, il 22 settembre del 1944, riceve da una detenuta in modo molto insistente un bigliettino da far consegnare all'esterno. Suora Eriquetta sa che tutte queste cose sono molto pericolose, non vuole farlo. Questo bigliettino è scritto talmente male che lei lo riscrive, lo consegna all'unica guardiana che in quel momento c'è in carcere, la signora Gemma di Puccio, e lo fa uscire dal carcere. La guardiana la porta alla famiglia Uccelli, che allora collaborava alla rete resistenziale, non trova le persone che di solito svolgono questa funzione, una delle parenti degli uccelli porta questo messaggio in Piazza Cadorna e lì trova la polizia tedesca. Significa che subito dopo suora Eriquetta sarà arrestata. Il 23 settembre suora Eriquetta viene arrestata con l'accusa di spionaggio, intesa con il nemico e la pena per lei dovrebbe essere la fucilazione. Viene sottoposta di interrogatorio, non viene per fortuna perquisita, perché oltre ad avere tutti i messaggi compromettenti, suora Eriquetta reca con sé anche i soldi che venivano utilizzati per il fondo a favore dei detenuti. Una volta dopo l'interrogatorio, suora Eriquetta viene condotta nelle semi-interrati del carcere che lei non aveva mai visto. Si chiamano, vengono definiti, alla tumba, tombone o ai topi. Lì a modo di sbricionare subito queste missive, in alcuni casi sappiamo che i detenuti addirittura li mangiavano questi messaggi per non essere trovati, li sbriciola e se ne libera. È una situazione molto particolare, perché suora Eriquetta sa che potrebbe essere fucilata. Sa comunque che il cardinal Schuster farà qualcosa a suo favore, come di solito interveniva sempre a favore dei sacerdoti, delle religiose, o anche di particolari figure arrestate. Che cosa teme di più? Non teme tanto la morte, perché sa che comunque ha svolto il suo ruolo a favore della giustizia, della libertà e si ritiene un'italiana. Teme più che altro che succeda qualcosa di diverso, che lei non sia uccisa, ma possa essere trasferita ai campi di concentramento. Questa è una cosa che la turberà molto nel suo periodo di detenzione in carcere. Quello che è importante sapere è che suora Eriquetta, proprio perché intrattiene questa fitta rete con la rete resistenziale, quindi è una staffetta partigiana, non si pentirà mai di aver svolto questo ruolo che secondo lei era necessario svolgere. In questa rete di solidarietà coinvolge anche le suore, anche se ovviamente con grande prudenza, perché tutti sanno che rischiano la vita. Un'altra funzione che lei svolge, ed è testimoniata da Mai Buongiorno, da Indro Montanelli, queste sono le figure più importanti, però probabilmente l'avrà fatto anche per altri detenuti, è che quando queste persone possono passare dalla infermeria maschile a quella femminile, durante la notte, quando i tedeschi rallentano la sorveglianza, lei fa incontrare Mai Buongiorno con la madre che era anch'essa in carcere, il dottore Indro Montanelli con la moglie. E questo secondo me mette ancora più in luce come lei sia veramente dedita alla carità e al bene dei detenuti, per trasformare questo luogo di detenzione, per attenuare la sofferenza che queste persone avevano dentro. E questi istanti sono rubati, istanti di libertà potremmo dire, istanti di amore figliale o amore coniugale, sono come il dono che lei fa a queste persone perché possano ritrovare la loro libertà, la loro dignità in un luogo di pena. Perché lei è stata veramente una suora della carità, ma un'autentica cristiana, un'autentica donna e per questa sua attività lei viene chiamata la mamma di San Vittore, l'angelo della bontà. Il fatto che ai suoi funerali che si sono svolti alla Basilica di San Vittore ci fossero tante autorità, tanta gente comune e una confluenza di popolo significativa, questo dice come lei era conosciuta anche perché 28 anni in un carcere sono tutta la vita. E un altro tratto che caratterizza suora Eriquetta e che si vede molto bene nella sua foto è il suo sorriso perché lei portava la luce all'interno del carcere San Vittore. Sembra una banalità, però per persone che sono private della loro libertà ed è veramente una cella, la cella del carcere è il massimo della privazione e sono oltretutto torturate, seviziate, insultate. Poter incontrare un volto sorridente e una persona della quale potersi fidare era una cosa importantissima. Tant'è vero che i testimoni tra cui Monsignor Barbareschi, Paolo Ligeri, Mai Buongiorno stesso e anche Indro Montanelli dicono delle suore ci si poteva fidare, di suora Eriquetta ci si poteva fidare perché comunque all'interno del carcere i tedeschi, i fascisti introducevano dei delatori e quindi di nessuno ci si poteva fidare. Ecco, lei crea questa rete di fiducia, di carità, di sostegno e non è solo spirituale o morale perché comunque sua premura era fornire di viveri, chi partiva, di indumenti, se partivano per i campi di concentramento, di una carezza, di un messaggio o di ricevere qualcosa che poteva essere dato alle famiglie. Un'azione veramente importante. Ancora oggi, suora Eriquetta è ricordata come la mamma di San Vettore. Per le sue opere e per il suo esempio, suora Enrichetta Alfieri è stata proclamata beata da Papa Benedetto XVI.